Ciao ragazzi, buongiorno, come state oggi? Allora, oggi parliamo del clima d'Italia e delle zone climatiche in Italia. Ok? Vi invierò una pagina di un libro con la descrizione delle zone climatiche e adesso la leggiamo insieme. Ok, ahí vamos. Tenemos. Il clima in Italia. Allora, cosa ci racconta in questa pagina? Dice che in Italia abbiamo un clima differente in base a dove ci troviamo. Ok? Quindi, da nord a sud il clima cambia. Cambia a causa della lunghezza, della penisola, dell'azione del mare e della conformazione del suolo. Osea, il clima in Italia cambia dependendo se stiamo nel nord o nel sud, perché qui nel sud è più calentato il clima, perché stiamo più vicino dell'Àfrica. Cambia in base a la conformazione del territorio, perché se abbiamo montagne, se abbiamo penura, se abbiamo mar. E cambia con l'influenza del mar. Allora, le regioni climatiche in Italia sono la regione alpina, che è in questa parte in alto. La regione padana, che è questa zona dove c'è la pianura padana. La regione appenninica, che è tutta questa zona qua degli appennini. Noi sappiamo che gli appennini vanno da nord a sud. La regione tirrenica, che è questa zona vicino al mar Tirreno. e la regione adriatica, che invece è questa zona qua, e la regione meridionale o insulare. Insulare perché comprende le isole e meridionale perché comprende il sur. Ora, in questa parte del libro, in questa pagina, abbiamo la descrizione e la differenza delle varie zone climatiche. Leggiamo queste zone climatiche. Vamos a leer. Y vamos a hacer un pequeño resumen, ok? Muy, muy breve. Y me van a inviar para el próximo miercoles, ok? Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.